Oggi è stata approvata la delibera di giunta relativa al quarto bando ristori, una delibera che mette a disposizione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia ulteriori 7 milioni di Euro, verranno coinvolte delle fattispecie finora escluse dai precedenti tre bandi e verranno comprese nei ristori le imprese presenti nel bando terzo e nel bando quarto, nato dall'1.1.2020, inoltre troveranno ristoro i liberi professionisti sempre individuati nei codici del terzo e del quarto bando, quindi un'ulteriore misura che porta a 70 milioni gli interventi messi in atto dalla Regione in questa fase emergenziale per le proprie imprese e per i propri imprenditori.